Per il secondo anno consecutivo Noval organizza una fiera dedicata ai professionisti della ristorazione, tantissime aziende italiane sono giunte qui un po' da tutti gli angoli dello stivale per raccontare la loro esperienza nel campo della qualità e proporre i loro prodotti d'eccellenza ai ristoratori del territorio. Noi puntiamo assolutamente su prodotti di qualità, i nostri partner sono partner scelti per la qualità dei loro prodotti, per la loro collaborazione, per la capacità di innovare costantemente sul mercato. Il programma è questo che ho scelto sia in Noval che in Cooperativa dove sono anche presidente, è proprio quello di uscire dalla bagarre dell'anonimato, di uscire fuori purtroppo anche se c'è recessione, di dare prodotti di qualità con dei prezzi piuttosto competitivi o comunque abbastanza abbordabili a qualunque tipo di clientela. Siamo un'azienda agricola di Rodello in provincia di Cuneo, produciamo soprattutto vino ma poi anche nocciole, due prodotti tipici delle nostre zone. Vinifichiamo circa 200 quintali di vino all'anno, quindi siamo una cantina medio-piccola, abbiamo una produzione che si aggira intorno alle 20.000 bottiglie l'anno. Vinifichiamo solo uve nostre, qui seguiamo dalla potatura alla vendemmia, la vite e i suoi frutti e poi vinifichiamo che cosa la vite ci produce durante l'anno. L'enologo e il proprietario dell'azienda in cui lavoro, mio zio, ha sempre avuto a cuore il mantenimento della tradizionalità nella vinificazione che è un elemento molto ricercato anche dalla clientela, non andare a fare prove con eccessivi per esempio barricamenti dei vini. E secondo, è sempre stato anche molto attento al rapporto qualità-prezzo per rimanere vicino alle potenzialità e possibilità della gente. Sono comunque bottiglie dotate di una certa prestigiosità, un vino dotato di una certa delicatezza e tipicità che però è molto accessibile da parte dei consumatori.